La manifestazione è organizzata dalla Ischia Boxing di Francesco Napoleone e dalla società Napoli Box, del maestro Lino Silvestri e della manager Stefania Esposido vedrà salire sul ring e combattere proprio gli atleti della società napoletana. I match clou saranno combattuti da Vincenzo Sottile, 25 anni, peso massimo, nato e cresciuto a Scampia e dal campione del mondo Pasquale Parmigiano. Sicuramente sono molto orgoglioso di combattere qui a Ischia, spero di fare una bella figura per poterci poi ritornare. a portare dalla mia più fan possibile, più fan sull'Italia. Ora praticamente l'incontro del 15 giugno consiste per una corsa ad un titolo della categoria dei mediomassimi. Io in precedenza ero un supermedio, infatti la cintura è quella lì dei supermedi, mondiale giovani dei supermedi. Ora con questi incontri che cominciamo dal 15 giugno è per metterci in carreggiata per il titolo dei mediomassimi. Ma quella del 15 giugno sarà una serata all'insegna delle quote rose, infatti in uno dei match che anticiperanno l'incontro clou saranno protagoniste proprio le donne e in modo particolare l'ischitana menareggine. Ma non è tutto, infatti nel corso della serata si terranno anche incontri di altre discipline. Il protagonista sarà Guido Di Paola, figlio del maestro basquale Di Paola, molto conosciuto qua a Ischia e in questa occasione ci sarà sia l'incontro suo che un altro fighter. In questa serata ci sarà anche un po' da divertirsi guardando questa nuova disciplina che appunto prima ne ha parlato Franco. Stiamo parlando del K1 tratto dalla Muay Thai, praticamente si eliminano le gomitate e poi un po' un match simile a quelli di Thai.